E' forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo, quello che vedo, sento e odoro. C'è veramente il male? E' gente veramente cattiva? Come può essere che io che sono io non c'ero prima di diventare e che una volta io che sono io non sarò più quello che sono. E' una volta io che sono io 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 Mia sia la fatica E' una volta io che sono io 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 toccata di Cacciaturiana E come la faceva? La faceva molto male Sei se sarà migliorata la potrei dargli Ma io non penso ha segnato il Napoli, in frattempo questo è sempre una buonanizia anche per i non tifosi esatto ha segnato il Napoli 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti